Stasera Rita Ballerina, ospite di Buglie Poupe, co-conduttrice. Ballerina, partner di uno dei vincitori. Insomma, che vuoi fare di più? Niente, io ringrazio il ragazzo che si è prestato a giocare con me in questo ballo. Spero che abbiano tanta fortuna nel lavoro che credono veramente, perché il ballo unisce tante persone e vedo che loro sono una bella coppia. Parla di Nicol Zanni e Lorenzo Armarolli. Rita, quali sono i tuoi progetti per il futuro? Ma io vorrei riuscire ad andare in un torso, non lo so, in televisione per dimostrare che alla mia età comunque si può far divertire ancora tanta gente. Quindi mi raccomando, se la state guardando e volete invitarla in un vostro programma televisivo, fatelo, contattateci che noi ovviamente vediamo subito il contatto di Rita Ballerina, ok? Va bene, grazie. Grazie mille, grazie Rita Ballerina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.